L'entusiasmo a fior di pelle e il successo sulla capolista ha caricato l'intero ambiente rosso-azzurro. Attenzione però a non cadere nell'errore di sentirsi già fuori dal tunnel. La Lega Pro nasconde insidia a non finire e la prima è dietro l'angolo. Domenica al Massimino arriva infatti una paganese ferite con il dente avvelenato per la sconfitta nel derby con la Juve Stabia. Quella con i campani è una partita abbondantemente alla portata degli etnei, a patto però che anche contro gli uomini di Grassadonia il Catania mette in campo la stessa determinazione ha la stessa voglia di vincere, vinta contro la capolista. La settimana di lavoro è appena iniziata ma l'intensità con cui il gruppo di rigori ha affrontato la ripresa degli allenamenti fa ben sperare. Un'eventuale vittoria traghetterebbe i rosso-azzurri verso zone decisamente più tranquille della classifica. Dall'infermeria intanto arrivano buone notizie, fornito infatti il recuperato dal guaio fisico che gli ha fatto saltare le ultime gare. Il suo impiego a tempo pieno contro la paganese al momento però appare difficile, l'ex Trapani potrebbe invece tornare in Coppa Italia con il Messina. Domenica sicuri assenti saranno Bastrini e Russotto, il primo ancora le prese con problemi fisici, il secondo perché squalificato. Il fantasista è stato beccato a bestemmiare durante i controlli anti-doping nel post-gara con il Lecce e su segnalazione degli ispettori federali è stato fermato per un turno dallo giudice sportivo. Catania Paganese in programma domenica alle 16.30 sarà arbitrata dalla signora Kindemi di Viterbo. Nella giornata di ieri intanto il Catania ha risolto consensualmente il contratto con l'allenatore in seconda Vincenzo Milazzo che per motivi personali ha dovuto rinunciare all'incarico. Al suo posto arriva Alessandro Russo, già presente comunque nello staff tecnico.